Primi rumori dal mondo Balli che si chiamavano twister, rock'n'roll, tutte cose che sentivo per la prima volta Nella mia nuova classe le ragazze portavano il petticoat, le scarpe con i tacchi a spillo, i capelli cotonati alti e le unghie laccate Gli anni del miracolo economico nella provincia tedesca, ma per me era il mondo Dopo cinque anni di collegio dalle suore la libertà Cinque anni infatti di muri, aule, camerate, rosari, messe del mattino, funzioni serali messe solenni, esercizi spirituali e rare capatine in una Città somigliante a un'enorme lapide ricca di ornamenti Cinque anni nel chiuso di una prigione per debitori Dove il proprio debito non viene scontato, bensì di respiro in respiro Ha cresciuto, fino a restarne soffocati Al confronto persino le case dove ritornavo ad abitare erano una fortuna Non fosse altro che per il fatto di poterle abbandonare Di sera, quando mio padre fa l'ultimo turno Andare sul corso principale a farmi guardare Finalmente essere vista dal mondo Di sott'è chi osservare le altre Le ragazze tedesche, quello che hanno indosso, come si muovono Le occhiate che scambiano con i ragazzi tedeschi E guardare le vetrine, le camicette di nylon, i pullover con le maniche raglan I blue jeans, le gonne strette di trevira con lo spacco I primi bikini che nessuno ancora osava portare Il corso principale? Gran passeggio, grande passarella, centro del mondo È un'unica meta Sposarsi Divenire finalmente tedesca Finalmente uscire dalle orribili case Come le chiamavano in città Le case dove abitavano i senza tetto i profughi dell'est Le case ricovero Finalmente fuori dai vestiti della Caritas e dai pacchidoni americani Fuori dalla mia orribile pelle russa Dopo i sedici anni avevo sentito era permesso il matrimonio E io sedici anni li avevo Ormai compiuti da sei mesi Un solo sei sulla pagella? Aveva detto mio padre Quando davanti allo specchio mi ero fatta la frangetta sulla fronte Una fronte esageratamente alta e nuda La storia intera della mia infanzia Una storia di sofferenza Per questa mia sconcertante fronte russa Che non volevo avere Un solo sei sulla pagella? Aveva detto mio padre E ti ritrovi immediatamente in collegio Avrei preferito morire piuttosto che ritornare in quelle segrete In quei piombi dove si cade e si ricade tutto il giorno E persino nel sonno Come in forza di pesi Un unico cadere nel peccato fin dentro l'inferno Ormai solo il matrimonio poteva salvarmi Perché i sei sulla pagella Lo sentivo Non sarebbero mancati E fino alla sua consegna non rimanevano che poche settimane Bentrovati E ben trovate Proviamo a rinnovare il nostro appuntamento settimanale se ne avete voglia Questo era l'incipit di Avrò vissuto un giorno Io sono Andrea Per chi non mi conosce Sono uno del circolo dei narratori di Bergamo E dalla scorsa primavera Condivido testi letterari con chi vuole ascoltare Per chi invece mi conosce dirò che sarà un po' diverso Da come abbiamo condotto la cosa nella scorsa stagione Perché semplicemente Quest'anno il sabato mattina io lavoro E in generale quest'anno a scuola è piuttosto complicato E non è facile per me trovare un momento fisso Della settimana in cui trovarci Insieme in diretta Pertanto faremo come abbiamo sperimentato negli speciali estivi Io registro un video Quando capita E lo carico e lo rendo pubblico a scadenza fissa Il sabato alle 15 Proviamo a vederci il sabato alle 15 Non avremo pertanto occasione di incontrarci in chat Quindi se volete comunicare qualcosa a me O tra di voi E mi farebbe un grandissimo piacere Dovreste lasciare un commento Dicevo un anno complicato a scuola Ho pensato per questi nostri primi ritrovi di quest'anno Di condividere con voi delle storie Che parlano di Che parlano di ingresso a scuola Di inizio di anno scolastico Di cambio di scuola Facciamo magari una piccola miniserie E in questo Avrò vissuto un giorno La storia di cui queste sono le primissime pagine Poi la trama si sviluppa in tutta altra direzione La storia di una ragazza nata in Germania Da genitori slavi Deportati nella seconda guerra mondiale E che cresce da profuga Negli anni Immediatamente dopo la guerra Salto un paio di pagine Dalle suore Ero stata una buona scolara Ma in questa scuola nuova Nella scuola laica Quasi da un giorno all'altro Ero diventata la peggiore Anche dalle suore In quanto non cattolica Ero una diversa Conoscevo soltanto il segno della croce russo-ortodosso Soltanto le preghiere e gli inisacri russi Non avevo il permesso di confessarmi come le altre Restavo da sola in chiesa sulla panca Mentre le altre andavano a comunicarsi Da bambina non avevo dovuto attendere la prima comunione Per diventare una bianca sposina di Gesù Già a tre anni Mi avevano sollevata verso il sacerdote russo Davanti alla barba grigia di Dio Davanti al calice d'oro Con vino e prosvirca Quando ero entrata dalle suore Non sapevo che fosse proibito mangiare carne il venerdì Che facendo il bagno e andando dal gabinetto Bisognasse sempre stare attenti e fare in fretta Perché vedere qualcosa di sé era peccato Non sapevo dell'esistenza di un numero infinito Di peccati mortali Per i quali se uno non li confessava Finiva all'inferno E ero rimasta una diversa Anche quando il vescovo cattolico mi aveva permesso di confessarmi E di ricevere la comunione come le altre Perché cattolica non lo ero comunque E non essere cattolica era ancora peggio che non essere tedesca Non essere tedesca era una dannazione in terra Ma non essere cattolica era una dannazione in eterno E che io diventassi cattolica Mio padre non l'avrebbe mai permesso Rimasi russa ortodossa E la confessione e la comunione La messa del mattino nella cappella del convento Le funzioni mariane della Jakobskirche La messa della domenica nel Duomo Come ogni giorno dalle suore Erano solo una grazia che mi veniva concessa Adesso nella nuova scuola All'improvviso essere cattolici non contava più Anzi era sbagliato Perché qui erano tutti protestanti E per me diventare protestante era altrettanto impossibile Ma ero soprattutto di nuovo Come già durante la mia infanzia La ruschi Delle case La lebrosa con cui nessuno parlava Come sulla pelle di un camaleonte Variavano su di me i colori dell'anomalia Anche se dal di fuori Continuavo a essere la più grigia di tutti Accomunata al massimo a Ing Krabbe Che abitava nella zona vicino alle case Negli ultimi edifici tedeschi prima del confine Oltre il quale cominciava il territorio Riservato a noi Su cui nessun abitante tedesco di questa città Aveva mai messo piede A meno che non fosse un poliziotto O rappresentasse qualche altra autorità pubblica Neanche Ing Krabbe La più miserabile fra i tedeschi Mi rivolgeva la parola Nemmeno lei E in ogni modo io non capivo quasi nulla Di quanto veniva detto a scuola La mia incapacità di capire il tedesco Assumeva adesso in questo mondo Nuovo e sconcertante dimensioni Ancora più eclatanti che dalle suore Dove su ogni forma di realtà Era disteso il velo del timor di Dio Dove anche in geografia, matematica, chimica Eravamo giudicate più per il nostro grado di devozione Che di sapere Il sapere delle cose terrene In cui erano sempre in agguato male e peccato E i buoni voti dalle suore me li ero guadagnati Più grazie alla mia ipocrisia Che al sapere e allo studio Adesso all'improvviso si trattava di matematica Senza veli Di geografia e chimica Senza veli Non avevo mai sospettato Che qualcosa del genere esistesse E solo adesso mi accorgevo di tutto quello Che dalle suore era stato tenuto nascosto All'improvviso era come se ci fossero Due lingue tedesche Una cattolica E un'altra di un mondo a me Completamente estraneo e inesplicabile Che mi precedeva e raggiungibile E in cui persino calcoli frazionari e date Avevano un significato diverso che dalle suore Mentre le parole dei romanzi e degli articoli di giornale Di cui si parlava nelle ore di tedesco Di educazione civica Non significavano per me quasi più nulla in assoluto Mai avevo avuto fra le mani un libro tedesco Che non fosse di quelli scolastici O di preghiera A noi permessi dalle suore Non conoscevo che i libri di fiabe E di poesie russe della mia infanzia I giornali per emigrati russi A cui mio padre era abbonato Ma mentre dalle suore la mia estraneità La lingua tedesca non si era mai fatta Granché notare O quantomeno era passata in secondo piano Rispetto al fatto ben più grave Di non essere cattolica Qui era questa estraneità A prorompere da me in ogni circostanza Come sintomi di una bizzarra malattia O mutazione Non capivo la lingua degli insegnanti Non capivo la lingua degli alunni Né la lingua che tra loro parlavano i ragazzi I ragazzi che all'improvviso Mi stavano seduti accanto in classe Né la lingua delle ragazze La lingua tra i ragazzi e le ragazze La lingua tra gli allievi e gli insegnanti Che ci dicevano lei E signorina All'improvviso ero adulta Mi davano del lei Ma era come se soltanto la parte russa Infamante Fosse cresciuta e maturata in me Mentre quella che doveva diventare adulta e tedesca Una maturazione che aspettavo da sempre Come l'inizio della vita Diventava sempre più piccola E me sempre più Si rimpiccioliva Quando seduta nel banco Balbettando e arrossendo A ogni domanda Non capivo quello che mi chiedevano Per sbaglio scattavo in piedi Ogni volta che venivo interrogata Così come ero abituato a fare dalle suore La risata di vampante Mi respingeva nel banco E i sei sulla pagella L'insufficienza su tutta la linea Il dover tornare di nuovo dalle suore Mi sembravano ormai un fatto ineluttabile E come durante le messe del mattino Nella cappella del convento Le funzioni mariane nella Jakobskirche E le messe domenicali nel duomo Sedevo in un banco E qualcosa di terribile voleva uscire da me Qualcosa dentro me era incontrollabile E conduceva una propria vita Dalle suore era stato il riso Un riso immotivato Su cui non avevo potere Che costantemente si raccoglieva dentro di me Mi risaliva per la gola In bolle gorgoglianti E a prova di una qualche verità su me stessa A me ignota ma annientatrice Voleva scoppiare proprio quando erano pretesi Massima serietà E solenne raccoglimento Questa vicenda Tra l'altro abbastanza poco raccontata Quella dei deportati russi E in generale Dell'Europa dell'Est La famiglia del protagonista È una famiglia mista Russo-Ucraina È ovviamente un caso molto particolare Ma credo che esso restituisca Una realtà che invece Se non universale Almeno molto comune Che vedo molto Tra le mie e i miei studenti Parlo della sensazione Di essere In un mondo estraneo Della condizione di sentirsi Costantemente giudicati Non solo per il razzismo Che comunque non manca Ma proprio per un carattere Intrinseco della realtà Una realtà Estranea Della quale non padroneggi le regole Una realtà che è orribile Ma che è in qualche modo Anche un privilegio Privilegio del quale devi Continuamente dimostrarti Degno Ci potrebbero essere Cento dei miei alunni E alunne Al posto di questa ragazza Con questa identità Divisa E la parte che cresce Non è quella giusta In questo caso La parte profuga Cresce E la parte che dovrebbe Diventare adulta E quella tedesca Non cresce E ogni volta che Mi viene voglia di Prenderli a schiaffi I miei alunni E vi assicuro Che succede spesso Mi ricordo Tra le altre cose Di questo Romanzo Una mortificazione simile Sembrava incomberesso Di me Anche ora Mentre stavo seduta Nel banco di scuola E il liquido Insidioso Cominciava A raccogliersi Nel mio bacino Come a suo tempo Il riso In gola Già Avvertivo nell'aria La vibrazione Con cui si annunciava La risata Dei miei compagni Quando per la seconda O terza volta A tre due pause Sarei balzata in piedi Precipitandomi Nel bagno All'ultimo momento Prima della rottura Degli argini Contro cui I miei muscoli Costritori Facevano ormai Fronte Con uno sforzo estremo Ogni volta dovevo Precipitarmi In quel corridoio Di derisione Che nella fuga Verso il bagno Era costretta Ad attraversare Quel corridoio Dentro la mia Catastrofe Ridicola E così Di me Tornava a manifestarsi Sempre qualcosa Di diverso Il preciso contrario Di ciò che io Rimasta per tanto tempo Invisibile Sentivo di Dover mostrare Immediatamente Improrogabilmente Al mondo Dovevo Mostrare Di essere Come tutti gli altri Di essere Una di loro Tedesca E adulta Che valeva La pena Amarmi Ah ecco Devo Ricordarmi Questa storia Le cento Volte al giorno Che chiedono Di usare I servizi I genici Che forse È anche Un O L'abbiamo Sempre saputo Però Capiamolo meglio Un modo Per scappare Da quella Realtà Che è La classe Da quella Realtà Inesplicabile E aliena Dei rapporti Umani Incomprensibili Che è La classe Avrò Vissuto Un giorno Di Natascha Vodin Edizione Einaudi 1995 Come Vi dicevo Anche nel Prossimo Incontro Se ci sarà Un prossimo Incontro Vorrei Condividere Con voi La storia Di un Ingresso A scuola Allora Vi saluto Vi do appuntamento A sabato Prossimo Stessa ora Se avete Voglia di Parlarne La discussione Prosegue Tra i commenti Grazie